buonasera amici amiche di nuova news 24 arriva il colpo di scena dopo la fine del talent amici che ha visto proprio trionfare mattia zenzola arriva la frequentazione tra benedetta varia e mattia zenzola per chi non ricorda benedetta è stata la partner di mattia fino all'ultima puntata lei che era fidanzata ha lasciato il fidanzato per mettersi proprio con mattia gli apprezzamenti verso mattia erano stati diretti durante la permanenza proprio nel talent di amici non faceva altro che fare complimenti nei confronti proprio di mattia dopo però che è avvenuta proprio la critica ricordiamo con maddalena di cui benedetta si è pentita però subito lontane dalle telecamere di amici benedetta e mattia si starebbero frequentando come facciamo a saperlo durante un'esibizione a catania i due ballerini si sono baciati in un bacio che non era solo puro spettacolo ma non era addirittura previsto dalla coreografia mattia e benedetta si starebbero frequentando lontano dalle telecamere di amici lo sostengono anche fonti vicine ai due l'esperta di gossip marzano pubblicato la foto ricevuta da un utente qualche giorno fa come vediamo lo scatto fa riferimento all'esibizione dei due ballerini a catania e i due praticamente stavano esibendosi quando un bacio scatta tra i due in una coreografia dove non era previsto questo bacio benedetta e mattia sabato sera a catania sul palco scrive un utente ha fotografato i due mentre erano intenti a scambiarsi questo famigerato bacio ad aggiungere un carico pesante all'indiscrezione è l'influencer appunto marsano che commentato la foto del bacio dice si pare che stiano insieme ma vogliono solo discrezione secondo indiscrezioni che si fanno quindi più insistenti benedetta e mattia avrebbero lasciato il programma non stando insieme benedetta ha dovuto lasciare il suo fidanzato storico suo compagno durante tutto il periodo della partecipazione ad amici per poi mettersi proprio con mattia e ricordiamo che l'ex di benedetta è il calciatore simone maselli giocatore dell'atletico col ferro padre di un bambino di otto anni a cui benedetta è profondamente legata era stato proprio maselli a difendere la fidanzata all'epoca in cui mentre i due erano ancora nella scuola di amici amici di nuova news 24 quale sarà la verità intanto proprio nell'ultima intervista i due hanno smentito pubblicamente davanti a fiorello proprio la frequentazione ma le fonti ormai sono quasi attentibili cosa ci sarà di vero vi diciamo innanzitutto che i due si stanno esibendo da nord a sud in tutta italia con esibitioni molto sceniche e belle intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su diteci cosa ne pensate della nuova coppia e seguiteci sempre su nuova news 24 e e Grazie per la visione!